Martina Luigi, al termine d'Italia-Olanda 3-1, le tue impressioni? Sì, siamo partite molto bene, poi pian piano la partita ha cambiato un po' l'inerzia, al normale sono stati un po' gli infortuni, però è ancora una cosa normale quando si è già così ravvicinati. Secondo me oggi è la partita in cui ci siamo avvicinati un pochino di più a livello dell'Olanda, perché l'avevamo già incontrata prima, avevamo fatto molta più fatica a esprimerci e a stare dietro al loro gioco, quindi penso che siano tutti segnali positivi e che stiamo arrivando pian piano anche ad avere il primo scontro bilanciato. L'infortunio a lei si è attesa tanto solo dal punto di vista mentale? Sicuramente un infortunio, sai, fa sempre un po' paura, poi soprattutto una ragazza giovane che penso sia uno dei primi infortuni che ha nella sua carriera, quindi anche lei secondo me sarà un po' spaventata, speriamo che non sia niente di grave e che ci riprendiamo a seguire la parentesi. Stiamo chiudendo.